Si chiude domani la stagione 2023-24 dell'Aquila in casa contro la San Benedettese. Alle ore 16 si gioca la finale play-off del girone F di Serie D. Chi la vince entra nella graduatoria delle squadre in lizza per un ripescaggio in Lega Pro. Prima di fare calcoli e ipotizzare tabelle però c'è da vincere l'ultima sfida dell'anno. L'Aquila ha il vantaggio della classifica, gioca in casa e ha due risultati su tre a favore. In caso di parità al novantesimo si giocheranno infatti i tempi supplementari e al centoventesimo, se la parità dovesse persistere, sarebbe la squadra di Cappellacci a conquistare la vittoria dei play-off del girone. Le due squadre si preparano al meglio, anche se entrambi gli allenatori dovranno far fronte a qualche assenza e a diverse situazioni legate agli acciacchi del momento. Per Cappellacci l'incognita più importante è quella legata a Banegas. Il capo cannoniere Rosso Blu viene infatti dal colpo al ginocchio ricevuto domenica scorsa contro il Roma City. Nelle ultime due sessioni di allenamento ha comunque svolto tutto il lavoro con il gruppo. Il difensore Giulio Dori potrebbe avere una chance per una convocazione insperata, ma il giovane ex Delfino Curi Pescara sta davvero provando ad esserci per quest'ultima apparizione. Origlio e Piscitella non ce la faranno. L'Aquila dovrebbe confermare lo stesso 11 visto contro il Roma City, con qualche ballottaggio probabile, tipo Belardinelli al posto di Pisciotta. Sulla sponda marchigiana invece dovrebbe essere indisponibile Arrigoni, con Fabbrini ancora in dubbio. Mister Mancinelli potrebbe confermare uomini e assetto visto domenica scorsa al Dei Marsi di Avezzano, quando i Rosso Blu hanno sconfitto a domicilio la terza forza del campionato. I tifosi della Samb hanno polverizzato i 600 taglianti per il settore ospiti del Gran Sasso d'Italia, attesi per questa finale 4.000 spettatori. Come funzionano i play-off di Serie D? Le nuove squadre vincenti dei Gironi entrano in una graduatoria di ripescaggio. All'interno di questa però ci saranno tutte le squadre che hanno la possibilità di fare domanda per entrare in C. Le retrocesse della Lega Pro, le squadre Under-23 e il Milan potrebbe crearne una dopo quelle di Juventus e Atalanta e le vincitrici dei play-off di quarta serie. Per poter sognare il ritorno dei professionisti, quindi, l'Aquila o Samb dovrebbero sperare nelle disgrazie di altri club di Lega Pro al momento delle iscrizioni alla stagione 2024-2025. Lega Pro al momento delle iscrizioni alla stagione 2024-2025.